Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo secondo appuntamento con Sleeping Dogs Ora dovremo recarci al mercato per Farci pagare per la protezione Vediamo un po' cosa succede qua Questo gioco mi sta prendendo veramente molto divertente Vediamo un po' cosa Cos'è che è qua? Non so cosa ho comprato, vabbè Allora, eccolo lì il primo mercante Lo so Eccoci qua Ehi tu Bravo bambino Ecco questo qua Mi ha pagato senza fare storie Molto probabilmente gli altri Non so se Anche gli altri Non fanno storie Eccola in fondo Eeeh quanto parli Ecco qua il secondo Ehi dammi i soldi stronzo Certainly Ho Lo cerco Eeeh quanto è stato figo Questa guardia del corpo Vieni, ohh Vieni qua faccia di merda, no, vai a fare una telefonata BAM! BAM! No, stai qua, chiamala mamma Ho lasciato i miei soldi, sennò ti butto anche te Bravo, bambino Ok, prossimo, eh Ecco qua il prossimo Tu dancio la grana, bimbo Oh, oh, oh Ehi Oh Sì, sì, dai, come ti permetti Vaffanculo Ti è Sì, ciao, ciao, BAM! BAM! Dai, vieni qua Ciao, ciao Prendo qui l'aria perché tanto Ti è Vaffanculo Dov'è il prossimo? Non c'è, finiti I dindini, amico Dov'è il prossimo Oh, cazzo Dov'è? Eccolo qua Oh, no, non mi uccidete il tipo Oh, vi faccio il culo pure a voi Va, vaffanculo Bro, ti è Ops Troppo divertente come fa le combo Spena riesco a prendersi un po' la mano qua Uh, che botta Uh Bravo Sei forte Chi è? Uh, che botta No, cazzo Cos'è sta borsa di merda? Che cazzo devo fare, no? Oh, oh Come si butta sta roba? Cazzo Vado in giro con sta borsa Dai, vai via Come cazzo si lancia? Ah, cura, dammi i soldi Oh, la Bravo, bambino Ok, ci bebbiamo una bebita Per ristabilire l'energia Quindi se non la smetti di parlare Giro un pugno pure a te Bene, adesso andiamo a Cambiarci i vestiti Andiamo a comprare qualcosa Eh, bella musichetta Ok, vediamo un po' Cosa possiamo Cambiarci un po' i vestiti No, bella canotta forse Ok, questa bella maglietta Pantaloni Ok Scarpe Bene, poi Cosa posso apigliare? No, il cappello, no Qui Non si può Ok, ragazzi Bene Stiamo meglio, eh Vestiti un po' più scialli E' carino sto mercatino Chine E' carino E' carino che rompi palle quello bene portati via al rompicoglioni che continua a parlare sempre qua adesso boh non so cosa fa ok ok va bene ok ta 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 poi vediamo un po ok andiamo a parlare con questa ehi ciao che cazzo continui a parlare che me ne sono già andato vabbè andiamo a portare sti soldi qua oh oh guarda quanti coglionacci che ci sono qua vaffanculo ah no pensavi eh oh aia che botta quello faceva male aia ah no tu che le ho fatto Che prego è toto? Ahahahah Questa via Tu che cazzo vuoi Uuuuuh Sì sì Ma cosa vuoi E pianta di urlare te Cazzo Più da scema Vieni qua, ti piace la musica? No, ascolta un po' di musica, coglione Uuuuh Quello faceva male Oh che cazzo è? Oh vabbè Togli i tuoi soldi che mi sono fatto il culo Per consegnarti sti soldi Eh, thanks un cazzo Eh voilà anche questa missione l'abbiamo completata Ma che bello Dai ne facciamo ancora una No No Ti sono Ti stai Ma cosa ti facciamo? Non, non Non c'è ma che Ma che Non volevo fare Ma che Non volevo fare Ma che Non lo sai Ma che Un'anni Un'anni Mi 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 e mi chiede a guardare perché ha fatto il business. Special K, ma anche altre cose. Mi pensavo, perché non? Mi prendo una piccola piccola per i miei ragazzi. No problemi. Ma questa settimana, sento Jackie a prendere l'enveloppe e mi chiede a fare i miei ragazzi. Apparante, è un amico con i dog eyes, quindi possiamo andare a farlo. Vuoi fare un esempio di i dog eyes? La home gatton è vera. Ora, ho bisogno di qualcuno per prendere me. Bene. Facciamo un'altra bella missione, andiamo a trovare quel tipo di... Lo so. Ok. Allora. Che che rompe? Mi pensavo che era il telefono. Vabbè. Ok. Quindi andiamo... Andiamo a prendere il tipo lì. So già che mi farà bestemmiare di brutto. Che che vuole? Cosa che vuoi? Ma no, non voglio le spaghetti. E ti dico che cazzo erano buoni. E qua urlano tutte. Ehi tu. Dovrebbe essere qua. Dovrebbe essere qua. Il nostro bersaglio. Eccolo lì. Il nostro bersaglio. Eccolo lì. Il nostro bersaglio. Che ci sta provando con la troietta lì. Ecco dove va scappare. Porca miseria. Vieni qua. Dove scappi. Pelatone. A me non sembra pelato. Non vorrei fare una figura di merda. Dove scappi? Cazzo. Wow. Torna qui. Chung chun chun. Torna qui. Porca miseria. Eeeh. Scusate. Ma vaffanculo tu. Toglietevi. E qua chun 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 chun. Dove cazzo vai. Uuuu. Cos'è? Metric. Spacchiamo tutto qua. Corriamo. Cazzo stanno andando stoppirla. Ah mi è voluta da. Vieni qua. Ah no. Cazzo l'ho mancato. Porca troia. Ti prendo. Ti prendo. Pelatone. Oh merda. Ok. Un po' di allenamento eh. Prima di uccidere il chivo. Pam pam. Patapim. Uuuu. Che cazzo vuoi? Tommale vai a fare il culo te. Mi stampa. Uuuu. Che cazzo vuoi? Che botta. Eeeh. Vieni qua. Pam. Che c'entra. Vieni qua. Toh. Uuuu. Che male. Cazzo. Ahia merda. Troso vieni qua. Bam. Bam. Eh vai. Toh vieni qua stronzone e ti buttano il secchio della spazzatura. Toh. Stai giù. Vieni qua pelatone. No cazzo. No. Questa situazione si fa complicata. Tiè. No. Ti frullo un po' la testa. Scoglionato. Mangia sushi. Lo faccio mangiare con la cannuccia al sushi. Oh. Oh Bruce Lee. Sei fermo. Una bella scossatina. Ma dove cazzo? Che cazzo vuoi? Vuoi che ti butto dentro del frullatore anche a te? Eh. Bravo. Toh. No pelatino. No pelatino vieni qua. Ahia. Eh è rimasto solo pelatino. Veloce il pelatino. Adesso basta. No. BAM. Ho sentito già qualche dente che si rompeva. Eh. Con altra. Centra toh. Ti prendo pure a calci. Ma che cazzo fa? Ma. Dai pelatino. Uh. Che bravo. Tiri i calcetti. Vai. Tiralo ancora. Dai. Vieni. Vieni. Ti prendo. L'ho原. Ahcao. Dario. Do cad� ti. Ciao colleghi, come state? In prigione di nuovo. Ok ragazzi, finito questo filmato. Finisce anche il nostro gameplay. Vi saluto già adesso. E vi aspetto al prossimo. Ciao ciao da GeneticDNA. Grazie. è stato un personaggio reale. Grazie per aver guardato la scuola, officer. Voglio dare una scuola, Shen, ma devi lavorare con me. Poi potrei cercare una scuola. Oh, superintendente, sono in medio di un'interrogazione. Inspector, c'è un'interrogazione. C'è un'interrogazione? C'è un'interrogazione di superiore, ma ti chiede a lanciare questo uomo. Sì, ho scritto che c'è San Onyi. Non posso solo cercare. Mi chiede a lanciare un criminal con la connessione del Triad. Non solo è controllo protocollo... For God's sake, Teng, è uno di noi. Cosa? Padre, prendi la porta. C'è un'interrogazione. C'è un'interrogazione. C'è un'interrogazione. C'è un'interrogazione. C'è un'interrogazione? C'è un'interrogazione? C'è un'interrogazione, Teng. Ora tu sai. Ora tu puoi assicurare che ci siamo aiutati, e non rendere il lavoro più difficile. Non sembra che ho avuto un'interrogazione. Non sembra che ho avuto un'interrogazione. Non, non, non. Ora tu non. Ora guardatevi. Non sembrano. Non sembrano. C'è un'interrogazione che si può fare per il fatto del fatto. Ma sopra, mi sono molto più di attenzione. Non posso farlo tipo questo. Tu non voglio sentire. Non vuoi sentire. Ma sopra. Non vuoi sentire. Ma sopra. Grazie a tutti.